Un uomo delle montagne Pietro, comandante della forestale Un pesce fuor d'acqua Attenta a che cosa... È fatto male? No Polizia Eh, polizia, polizia, sì Polizia ho capito No, dico le dieci parole prima No, non ho capito Molti casi da risolvere Vabbè, adesso ce ne occupiamo noi Voi pensate alle marmotte E un paesino come tanti O quasi Qui la gente, quando ha qualche problema, è abituata a venire da noi La gente cambia abitudine Terence Hill è tornato Un passo dal cielo Da domenica alle 21.10 La nuova serie di Rai 1